si chiama l'intestino felice adesso il riso gli occhi gli occhi la branciglia la droga a passare a passare a passare a passare a passare le luci le luci luce, luce, luce... ciao 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 grazie 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 di essere con me con me oggi 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 voglio provare come avrete notato dall'inizio del video uno stile nuovo che va molto all'estero ma ho visto qualcosina anche in Italia però soprattutto lo voglio provare perchè mi avete chiesto tantissimi di fare un video del genere sia nei commenti nei commenti nei commenti su di più sia nei direct su instagram di fare un video fast e quindi veloce diciamo abbastanza forte ecco che un po' in contrasto col mio solito 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 stile di un video abbastanza letti però volevo provarci perchè mi piace capire, mi piace sperimentare, anche se questo si vede che non è il mio stile insomma però ci si prova, quindi oggi ho tantissimi, 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 tantissimi e per informarmi meglio e per capire un po' questo stile mi sono ispirata principalmente ho un canale schiena e ho un link in particolare, li lascio qui sotto in descrizione molto molto bello, mi è piaciuto molto e secondo me è una delle poche che non mi fa salle l'ansia con questo video ok, tutti gli altri devo dire che non sono una grandissima, grandissima fan però, 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 provare non fa male a nessuno e soprattutto ho deciso di fare questo video anche perché, 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 perché mi è stato piaciuto anche di fare di nuovo il video 100 trigger in 4 minuti che fondamentalmente è molto fast, no? trigger veloci, veloci, veloci quindi mi sembra un po' un modo per unire, 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 unire tutto ho scoperto, tra l'altro, dei trigger super, super, super interessanti e super belli, secondo me quindi mi è piaciuto molto esplorare questo stile smr che di solito non mi appartiene allora questo libro si chiama l'intestino felice è un libro di un intero organ ok ok che spiega come si chiama l'intestino è un nome che si chiama l'intestino le tratta nelle altre 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Però ci era un ancora più... ...aggressivo. no, 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 no prossimo 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 questo trigger viene da Instagram dove mostro questi set e li faccio vedere sempre da vicino e ti ho apprezzato il suono che vanno queste costine e li faccio vedere sempre e li faccio vedere sempre e li faccio vedere sempre ok 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 passiamo a un altro un altro, un altro, un altro un altro, un altro, un altro, un altro questo è, questo è, questo è, questo è si chiama fruto, 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 fruto lucidante, dicrespo, capelli con il queseto è fruto lucidante, dicrespo, con il queseto applicando informamente sui capelli scelte per ottenere una capillatura molto luminosa molto luminosa, poi prima sulle mani quindi distribuire delicatamente sui capelli per ottimare quelli più fini e ribelli si assolutamente sono molto stabili questo è tutto andiamo a fare un po' di più ora ora trovo ora trovo molto bene al prossimo al prossimo al prossimo sembra sorridere questa ragazza dentro ho scoperto questo tripper questo tripper si chiama glowing letteralmente artiglio artigliare prendere con gli artigli e levare questo movimento e 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 un altro un altro un altro un altro e e questo e e e questo scopolino che buon suono meraviglioso e 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 un pochino di spennelate 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 brush 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 i e adoro 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 penelo penelo gli altri trick che vi voglio proporre sono trigger gli altri trick che vengono certo, pronto, pronto, pronto black, 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 black black, black, black 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 e adesso facciamo un po' di ear ear, ear tracing, tracing, tracing quindi, 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 segniamo un quadrato un quadrato un cerchio e poi scriviamo S-M-R A-M-R Fast 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 And Aggressive Aggressive Fast 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 And Aggressive Ancora disegniamo un Triangolo 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 Disegniamo un occhio Un occhio Un occhio Le ciglia Le ciglia E l'occhio L'occhio E ora continuiamo con questi movimenti E non ho un ritardo Movimenti 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 e adesso facciamo tracing sul mio viso, ok? il viso gli occhi gli occhi i sopracciglia il naso il naso, i labbra i labbra il viso i capelli il collo le spalle le brazzo le mani 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 e il palmo il palmo e ancora 1, 2, 3, 4, 5 e il palmo e adesso tracing così ecco qui la mano la vedi? la mia mano la vedi? la vedi? e il panno e al mio viso l'ombra il naso gli occhi sopracciglia e il viso il viso il collo il collo la collana lo scollo e le spalle e ancora le spalle e facciamo un po' dagli occhi gli occhi le sopracciglia la fronte il viso il viso il naso la bocca la bocca le collo le spalle le braccia le braccia le braccia le braccia le braccia le braccia io spero bene, grazie, bene, grazie ti sia piaciuto, ti abbiano tanti breviti 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 col colo, la schiena, la testa io penso proprio penso proprio penso proprio si è giunta 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 allora allora a passare 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 buona notte buona notte notte sogni sogni sogno 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 buon night 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 si dreams buon 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 buonanotte 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 bacione che li spera che li spera